Totò era un bravissimo giocatore, ma era anche un ragazzo leale. Mi ricordo che io chiesi scusa per un intervento molto, molto rude, al limite veramente quasi della legalità, e lui mi disse, sulle mie scuse, mi disse no, no, ma tu devi fare il tuo lavoro, ed è giusto che fai il tuo lavoro in questo modo. Cioè, non aveva la reazione di tanti altri giocatori che invece probabilmente si erano dimenticati, come lui invece non si è mai dimenticato da dove arrivavano. Per me un'epoca si era già chiusa con la scomparsa di Gianluca Vialli. Questa ulteriore scomparsa cresce non solo il mio dolore, perché entrambi sono stati, diciamo così, i protagonisti di quel mondiale del 90, i protagonisti di una carriera incredibile, ma soprattutto protagonisti negli anni in cui, secondo me, il calcio italiano portava con sé grandissimi campioni che arrivavano dall'estero, come Maradona, Van Basten, Platini, Rummenigge, Mateus. Insomma, tantissimi grandi campioni sono venuti nel nostro calcio, ma noi con i nostri italiani, tra cui appunto Totò e Gianluca, portavamo in alto i nostri colori italiani.